per l'esterno attenzione le scavo il seno spesso bella ragazzone questo nuovo video oggi ragazzi siamo su coltivo del corso 3 e oggi siamo su una nuova serie che si chiama yacht 2 dark matter mi ha parlato di questa serie sul video dove provo il cecchino e ho visto che il video mi è piaciuto molto e quindi ho detto registriamo subito un altro video e oggi proprio registriamo questa nuova serie la serie penso più lunga del canale comunque siamo a un buon punto da parentesi perchè questo l'ho appena incominciato l'hvk adesso ho già 21 headshot e poi ho l'xr2 con 66 headshot poi pure il fire stiamo lì tipo 60 62 però prima penso al fire e l'hvk perché mancano solo questi due per averci la bimetica e diamante poi con l'assalto già ho il kn44 oio xr2 così ci manca pochissimo l'm87 ce l'ho d'oio però tocca portare tutti in diamante poi su questa serie voglio aggiungere un'altra cosa c'era di portare tutti i specialisti al coso massimo come vedete il ruin ce l'ho al massimo tutti al livello massimo ci ho messo tantissimo a fare due schianti grazionali tre volte di fila e poi c'ho tenere ruin questi qua mi sono portando un po' davanti questi qua questi qua ma sto usando questo per fare le kill e basta ho portato poi questo qui tipo al massimo lo shite mi è venuto questo è stato abbastanza facile adesso ci penso poi lo speck ce l'ho al massimo e poi basta però questi qua aspettate che cazzo ho sbagliato brutto scusate poi questi comunque non sto messo male eh cioè sto messo quasi tutti così comunque cazzuoli facciamo una partita useremo o il fire o l'xr2 o l'hvk scusate e speriamo bene e come specialista però useremo vediamo un po' vediamo un po' questo usiamo lo spyob giusto per fare qualche killer cosa perché guardate come sto messo cioè qui sto quasi al massimo tanto mi manca questo però devo sbloccare tutti i abbin eppure qui non sto messo male perché sto a 16 su 40 e piano piano comunque ci arriviamo con calma comunque cazzuoli eh incominciate subito a lasciare un bel like e direi di incominciare con la prima partita di oggi quindi ragazzi eccoci qui sulla partita appunto e speriamo bene c'è perché poi non fiacchi quelli la contro e spero che non mi inculano le kill quelli che stanno al prestigio 9 e al prestigio 8 perché quelli la sono pezzi da meta dalla nascita comunque eh quindi sicuramente qualcuno si schianterà qui su bio qualcuno da amperato cazzo e vabbè stanno lanciando cosa cazzo già già cominciamo proprio di mad no da oh co c'è questi stanno mezzo nella pappa i compagnini che stanno a favori sono stavano a guardare l'unica spiegazione quindi vediamo un po' dove sono ancora non ho trovato un cazzo di nemico che bella cosa ho trovato solo due nemici che mi hanno killato male che bello olè no tanto io punto a fare gli airshot cosa so madonna questo gioco svalgola ogni tanto olè airshot questo è airshot no non me l'ha calcolato non me di cioè io ho fatto un airshot e la madonna non me l'ha calcolata che bella cosa vabbè vabbè vuol dire e tocca punta più alto che vuol dire vuol dire vuol dire cazzo eh dai madonna ma questi che se campe non fanno proprio che schifo questi ultimi giorni sto giocando solo a dash match perchè mi sta piacendo molto come modalità e tutti quanti sono spawnati laggiù che bella cosa il nemico eliminato lo è uno è andato lì c'è sanatio due sono andati dai dai qualcuno mi sta a farci questo vuol lanciare le canate montaggi tua c'ha un cazzo da fare dai qui dovrebbe uscire qualcuno se non mi vengono dove sono? cioè ci stava eh l'ho visto cazzo dai oh stai a un med da me e tocca il live comunque ho messo una cosa che c'ho like molto più velocemente ed è una cosa molto pratica dai cazzo cazzo no pezzo di mad ma non culare la kill hit my key pezzi di mad ho fatto il hit market della madonna da un medio cioè per un medio l'ho riusciato proprio ce l'avemmo da dietro dai questi che rottura di cazzo rega questi sono proprio una rottura di cazzo cazzo soprattutto il x62 da vicino fa poco schifo questa cosa davvero mi delude un pochetto oh madonna oh che palli ho c'ho la stessa skin perchè è sempre lo stesso te ho giù ammazzo qualcuno cioè non è possibile questo puoi accettare questo puoi accettare fuori lo shite poi non te faccio villane quindi sti gani sti ganger non so cosa sto dicendo però non muoiono non muoiono vabbè otto assist che bello che bello devo puntare sulla capoccia ancora non ho capito dai qualcuno si affaccia lì dai qualcuno si affaccia quella cosa dove sono mi sto un panicato perchè sento spaiata da per tutto però dove stanno io spero non mi stanno dietro perchè ammazzo qualcuno e due due di dietro bello cazzo no vabbè regà mi stanno a killa tutte le kill mi stanno a killa tutte le kill olè uno è andato madonna ho stato appena a volo io facevo fare un volo di otto metri minimo comunque dove stanno dove stanno eccolo headshot bitch dai oh vuoi che stai otto il cazzo mi ha killato 20 volte non è una cosa che odio sto gioco te killa sempre la stessa persona guarda ah pensavo non moriva cazzo comunque ce l'avemo devieto ed è finita fai allo ultimo che bello ho fatto schifo questa partita comunque va bene dai non penso non faremo un'altra partita perchè sennò devo fare i mega tagli come ho fatto sul video dei grey e c'è il mega tagli alla fine ho tagliato 8000 parti in vero voi manco venite accorti quasi comunque cazzuoli spero che questo ma vediamo un po' cosa abbiamo fatto questo episodio un anti headshot soprattutto e penso solo una kill l'abbiamo fatto con lo spyob che sfiga se no facciamo pure di più vediamo un po' vediamo un po' mentre questi stanno esintare il suo giallo ultimo che bella cosa 11-9 perchè la connessione ragazzi guardate la connessione io quando ho questa connessione è un'altra età che faccio schifo a giocare perchè davvero io non so per quale motivo mi sento tipo che muoio sempre infatti muoio sempre cioè pare che la connessione lag allora mi vedo molto prima e muoio molto prima mentre io le vedo comunque a parte le cose che sto dicendo che manco io so che cazzo sto a dire uscimo da questa lobby e come si faceva a vedere sono un coglione da qua si vede medaglie colpo adressa 1 che bello abbiamo fatto un colpo adressa infatti andavo a vedere subito tanto ne abbiamo sbloccato un cazzo e siamo a 67 colpi adressa piano piano mi porto avanti comunque non vi preoccup non vi preoccupate scusate e qua mancano 3 kill per sbloccare questa mi medica più poi 20 23 kill in tutto mancano per sbloccare cioè per poi andare e sbloccare il calabione scusate oggi mi sto un po' a cosa non so poi c'ho la gola menza e manco potremmo scattare niente quindi ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se sia stato così ragazzi lasciate un bel like un commento iscrivetevi al canale ci vediamo al prossimo video ci ha portato tutto bella ciao